Si rinnova al Teatro Comunale l'appuntamento del Conservatorio Luigi Canepa con la città che in occasione dell'apertura dell'anno accademico metterà in scena venerdì 25 gennaio un concerto gratuito. 140 elementi sul palco tra orchestrali e coristi con un repertorio lirico di tutti i tempi. Si parte con l'area della regina della notte di Mozart passando per Rossini, Verdi, Puccini fino al repertorio novecentesco di Giancarlo Menotti per la regia del maestro Andrea Raffanini. L'attività del Conservatorio è stata presentata questa mattina dal direttore Antonio Ligios e dall'assessore comunale alla cultura Manuela Palita che ha formulato il suo augurio affinché gli studenti possano rappresentare la città nei migliori teatri. L'attività artistica del Conservatorio prevede anche quest'anno i mercoledì della Sala Sassu a partire dal 30 gennaio fino al 6 novembre. Il Festival di Musica Moderna e Contemporanea dal 5 aprile, il concerto di Pasqua il 12 aprile e quello per il Maggio Sassarese del 31 maggio. Grandi novità anche sul piano formativo con l'avvio di due nuovi corsi, uno propedeutico all'escrizione al primo livello dei corsi accademici e l'altro di avviamento alla pratica strumentale per i talenti più giovani di specialità spesso trascurate dalle scuole a indirizzo musicale. Le novità del concerto che apriranno accademico ci sono state illustrate dal direttore Antonio Ligios.